I nostri clienti hanno già a disposizione tutti i servizi che gli permettono di entrare in banca, dove, come e quando vogliono. E la consulenza dei nostri family banker che li supportano nelle loro operazioni. Ma lo sapevi che ci sono tanti altri vantaggi? Ad esempio, se sei un cliente privilege, elite o black, puoi azzerare i costi del tuo conto, avere agevolazioni sui canoni delle carte, tassi vantaggiosi e spread agevolati sui mutui. Se fai compravendita di titoli, allora scontiamo per te i diritti di custodia e le commissioni di compravendita. Sei un cliente elite e black? Hai a disposizione un team dedicato pronto a rispondere alle tue richieste e poi un tutor che ti consiglia su temi specifici e complessi, ad esempio una pratica successoria. Ma non è finita. Ti offriamo anche la possibilità di fare un check-up della salute completamente gratuito. E con il Prestige Club hai l'opportunità di acquistare biglietti, tablet, auto, viaggi e tanto altro a prezzi vantaggiosi. E tutti questi vantaggi non sono solo per te. Ne possono beneficiare anche i cointestatari del conto. Entra in Mediolanum e scopri tutti i vantaggi di far parte del For You Club. Scopri di più su bancamediolanum.it